Hamsik in gol con la Slovacchia nel match di Nations League perso 2-1 in casa contro la Repubblica Ceca. Il capitano del Napoli ha messo a segno la rete del momentaneo 1-1 una rete importante per Marek visto che con il Napoli quest'anno non è ancora andato a segno anche perché con il cambio ruolo da playmaker di centrocampo ha meno opportunità rispetto a prima di andare al tiro. La rete decisiva per la Repubblica Ceca è stata messa a segno dal romanista chic.copyright riproduzione riservata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS